ciao a tutti ragazzi benvenuti qui nel canale gameplays 1973 channel un saluto al vostro amico salvo voglio mostrarvi i miei progressi in Sekiro guardate siamo arrivati a sconfiggere la monaca corrotta questi sono tutti i luoghi che ho scoperto tempi e rovina stanza di puro santuario sacctorum poi ho scoperto tempio di rovina dintorni di escina muro esterno muro esterno di scalinata valle del sottoponte fortino alle porte del castello porta del castello di escina poi qui abbiamo scoperto castello di escina anticamere del guerriero dojo a scima osservatorio stanze di curo tombe antiche santuario del grande serpente poi abbiamo scoperto le segrete c'era il canale sotterraneo abisso senza fondo nel monte congo ho scoperto il tempio senpo poi sciuggendo area del tempio salone principale santac santorum grotta della forza tempio del demone la campana poi su forza valle del santuario forza fortino grotta spaccata valle del potisativa abissi di ascina pozza di veleno foresta nascosta villaggio di mimbo mulino ingresso della grotta nuziale poi c'è tenuta di rata sponda della fonte di drago sentire la tenuta poi c'è pendio del bosco di bambù salone principale camera delle udienze tempio nascosto qui è dove ho sconfitto la monaca nascosta ragazzi anzi la monaca corrotta abbiamo sconfitta niente poi pubblicherò un'altra mini clip e vi saprò dire dove arriverò ma il mio scopo è finire il gioco e platinarlo ora vi saluto ragazzi alla prossima